Grazie a tutti. Quello che noi oggi mostreremo è le prime attività che la Regione Emilia-Romagna ha cominciato a svolgere sul tema del giardino storico. E' un tema di fatto nuovo per l'amministrazione regionale. Fino adesso diciamo che l'approccio è stato un approccio di tipo di valorizzazione, di promozione. La rassegna di Vilverde dal 2014, come già stato detto, ha portato alla conoscenza di questi luoghi e alla diffusione e al viverli in qualche modo attraverso le esperienze delle associazioni che hanno partecipato negli anni precedenti e anche questo alla rassegna. Ma questa volta si è voluta, da quest'anno, dall'anno scorso, si è voluto approcciare al tema del giardino storico in modo più scientifico, in modo più tecnico, in modo da affrontare il tema del giardino storico come uno dei temi su cui la Regione Emilia-Romagna vuole investire. In quanto, come abbiamo avuto modo di capire dall'intervento del dottor Lamastra, è un bene culturale assolutamente primario, ancorché magari non estremamente diffuso in termini di conoscenze. E quindi la nostra intenzione è stata proprio quella di cominciare a capire che cosa c'è nella Regione Emilia-Romagna. Abbiamo quindi cominciato da un piccolo nucleo che era il nucleo presente sul nostro archivio del patrimonio culturale e da qui abbiamo cominciato a raccogliere nuove informazioni, nuovi documenti per poter appunto cominciare a costruire il tracciato di quelli che sono i giardini della Regione Emilia-Romagna. A questo punto lascio la parola alla collega Giovanna Daniele che è l'artefice di questo primo catalogo, il quale, come anche già detto dal dottor Lamastra, non è il punto di arrivo ma è proprio il punto di partenza. Prego Giovanna. Grazie Fabio, buongiorno a tutti. Come diceva Fabio, la nostra attività necessariamente doveva partire da un'azione di conoscenza, quindi di arricchimento delle conoscenze già in essere, aggiornamento di queste conoscenze e tentativo di prima catalogazione. Siamo partiti appunto da una banca dati che era un piccolissimo nucleo che già esisteva come archivio dell'IBC e su questo primo archivio abbiamo lavorato acquisendo i dati del segretariato per l'Emilia-Romagna del Ministero, quindi dati dei beni tutelati, dei parchi e giardini tutelati con vincono. A questo primo nucleo di elementi abbiamo aggiunto un'altra ricognizione dati e poi vi farò vedere i risultati di questa ricognizione che sono a mio avviso estremamente interessanti. Da qui nascerà, si svilupperà, speriamo in tempi anche abbastanza rapidi, un progetto di classificazione dei giardini regionali che speriamo possa essere in linea con l'attività che il Ministero sta portando avanti sulla catalogazione a livello nazionale. Questo è il nucleo da cui siamo partiti, il catalogo Pater dei parchi e giardini che era nato con una finalità abbastanza diversa da quella della catalogazione dei giardini storici. Era nato come un archivio che aveva finalità di valorizzazione più che altro delle alberature di pregio e quindi il focus di questo primo archivio era sugli alberi, sugli alberi monumentali e sugli alberi meritevoli di valorizzazione e conoscenza. Incidentalmente ovviamente questi alberi sono quasi sempre dentro i giardini storici e quindi questo era sicuramente il nucleo da cui partire e il primo lavoro è stato quello di concentrarsi sull'individuazione di quali di questi giardini storici erano tutelati con un provvedimento da codice urbani. Abbiamo fatto questo piccolo aggiornamento e questa è la distribuzione che i risultati che sono venuti fuori per un totale di 100 giardini storici di parchi e giardini catalogati, 60 avevano una dichiarazione di interesse culturale sensi dell'articolo 10 del codice urbani e 4 erano dichiarati di interesse paesaggistico. Ovviamente questo come dicevamo era proprio veramente il punto di partenza a cui sono stati aggiunti tutti i dati del segretariato regionale per l'Emilia Romagna, un'importante collaborazione con l'associazione Barchi e Giardini d'Italia e con l'associazione di more storiche e un lavoro su una parte della grande bibliografia esistente, siamo partiti da quelle che vedete qui indicate, quindi i lavori del professor Cazzato e i lavori del dottor Antonini e con queste realtà con cui siamo venuti in contatto abbiamo stretto delle collaborazioni formali perché il nostro intento è proprio come si diceva anche prima quello di fare rete, di arrivare a una catalogazione, un censimento che siano condivisi non solo come criteri di classificazione prima di tutto, ma anche poi proprio come esito della classificazione e del catalogo finale. Ecco, il risultato di questa raccolta di dati e messa a sistema ci ha consentito di creare questo primo database dal quale pensiamo si possa cominciare a lavorare sulla selezione di merito dei Parchi e Giardini storici, quindi questo è un primo grande contenitore nel quale a nostro avviso dobbiamo andare a selezionare, individuare, fare delle gerarchie, fare delle categorizzazioni di merito, di tipologia, eccetera, eccetera, quindi lavoreremo a partire da questo. Questo database è quello che formalmente è stato poi fornito ad Apgi, ad Ades, a tutti i nostri referenti e interlocutori, quindi anche all'associazione di more storiche, è stato condiviso con le soprintendenze sempre nell'ottica che vi dicevo prima della massima condivisione e collaborazione possibile con tutte le istituzioni coinvolte su questo argomento. I numeri, i numeri sono significativi, abbiamo più di 1100 record censiti sul territorio, questa è la loro distribuzione sul territorio regionale, come vedete abbiamo usato la parola potenziali giardini storici perché come vi dicevo su questo ci sarà da lavorare e ci sarà da cercare anche prima di tutto i criteri di catalogazione di questi giardini. Di questo mondo più di 900 sono parchi e giardini tutelati con un decreto di tutela, questi decreti di tutela c'è da specificare che sono di tipologie anche abbastanza differenti, ci sono delle tutele che sono nate riferendosi esclusivamente al parco giardino, quindi sono delle tutele esplicite sul parco giardino, ve ne farò vedere degli esempi giardini Margherita per intendersi a Bologna, sono giardini che sono tutelati come parco giardino. Una grandissima quantità di questi parchi e giardini hanno una tutela che è primariamente riferita all'immobile, al palazzo storico, alla torre, alla casa eccetera. E quindi il parco giardino è tutelato, noi abbiamo individuato la parola come bene accessorio per intendersi, ma è una delle tipologie di tutela presenti nel decreto. Quindi 931 sono quelli che sono tutelati ai sensi dell'articolo 10, sia come bene primario che come bene accessorio, 147 sono parchi e giardini che sono stati estratti da questo catalogo, ma che nel decreto di tutela non hanno neanche la citazione della presenza del parco giardino, quindi esistono, sono abbastanza riconosciuti come giardini di valore, ma nel decreto di tutela non sono neanche menzionati. Ve ne farò vedere anche di questi degli esempi. 54 sono invece dichiarati di notevole interesse paesaggistico, quindi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del decreto del 2004-42. Questa vedete la distribuzione sul territorio regionale. Dati gentilmente forniti da Apgi e da Azzi sono questi, sono dati dal punto di vista numerico molto significativi, perché Apgi ha censito circa 200 giardini, parchi e giardini associati a dimore storiche, Azzi ne ha censito 89 riconosciute con parco giardino di valore. Una parte di questi numeri, una parte di questi beni sono dichiarati di interesse culturale, con giardino compreso, diciamo, elementi della tutela. Una parte sono tutelati ai sensi del codice urbano senza citazione del giardino, una piccola parte sono di interesse paesaggistico, una parte non irrilevante non è tutelata dal codice. I dati che provengono dalle fonti bibliografiche che ho citato, quindi i lavori del professor Cazzato e del dottore Antonini, anche questi sono numeri importanti, 77 e 350 rispettivamente, e sono molto interessanti perché rappresentano la fonte più consistente in termini di record non catalogati ufficialmente e non tutelati. Questa è proprio per farvi vedere la distribuzione sul territorio di quello che si diceva fino ad ora, i PNRR, quelli in verde sono i 103 candidati, quelli con la stellina sono i 9 che hanno superato la selezione e che quindi adesso affronteranno i problemi derivanti dalla gestione di questi finanziamenti. Ecco, allora il nostro obiettivo qual è a partire da questo? Lo ribadisco, è quello di arrivare a un livello di conoscenza stabile, condiviso a livello regionale e condiviso con il livello nazionale e poi partire con delle importanti azioni di valorizzazione, prima la conoscenza e poi necessariamente la valorizzazione. Questo lo faremo analizzando e rientrando dentro le schede del segretariato con il quale abbiamo un rapporto di intescambio continuo per migliorare, arricchire la documentazione presente all'interno proprio del segretariato. Poi vorremmo lavorare sempre in parallelo con il Ministero che abbiamo già visto sta lavorando a una ridefinizione, a un miglioramento della schede di censimento e quello è molto interessante anche per noi perché da quello che abbiamo visto queste schede sono appunto un po' antiche come struttura, come diceva il dottor Ramastra e andrebbero probabilmente snellite ai fini di un primo censimento ma forse anche di un censimento più profondo e di dettaglio. E poi per noi è molto importante ai fini della valorizzazione anche la documentazione iconografica e ovviamente derivante da una serie di verifiche sul territorio. Quello che possiamo fare e che vi faccio vedere nel concreto con due esempi rispetto alla documentazione presente sul segretariato che in alcuni casi è carente questo è un esempio molto concreto che chiarisce benissimo quello che sto dicendo questo è il palazzo Panciati Chifiantini una delle dimore anzi più rilevanti dell'Emilia Romagna che è un giardino storico curatissimo, meraviglioso, valorizzato, tenuto perfettamente e che nel decreto di tutela del codice urbani non ha nessun riferimento nella descrizione storico-artistica legata al decreto della tutela sebbene questo sia, lo faccio vedere dopo una foto ma insomma lo conoscete tutti. Questo invece è l'esempio che vi facevo prima ai giardini in Margherita un decreto di tutela primario attribuito direttamente al giardino Margherita e come tale la relazione storico-artistica si concentra nella descrizione di tutti gli aspetti di valore assolutamente sulla storia del giardino da tutti i suoi punti di vista. Tra questo e quello di prima c'è un'infinità di sfumature sia a livello di contenuto descrittivo sia a livello di documentazione presente nel segretariato e quindi quello che si vorrebbe fare dal nostro punto di vista è anche quello di arrivare a uno standard che sia piuttosto omogeneo come raccolta di documentazione a corredo di questi beni. Questa è la scheda ICCD di cui parlavamo prima una scheda un po' complessa, farraginosa sulla quale appunto come vi dicevo stiamo lavorando per capire se anche andando in campagna ci sono degli elementi che è fondamentale portare dietro nel momento in cui visivamente si fa la classificazione o se ci sono delle cose che si possono alleggerire o magari sostituire con elementi utili da catalogare o che non siano comprese. Questo è un po' velocemente il lavoro di catalogazione e catalografica che stiamo facendo con alcuni degli esempi e delle tipologie dei parchi e giardini. Questo è il giardino della villa Panciati Chifantini che vi facevo vedere prima, di Morazzi manutenuta in modo ottimale, valorizzata costantemente aperta al pubblico attraverso circuiti di visita e di valorizzazione e questo è un altro degli esempi di cui parlavo prima. Quindi questo è un bene tutelato dal Codice Urbani nel quale il parco giardino è considerato esistente quindi facente parte della tutela ma è un giardino completamente abbandonato che seppure un tempo magari aveva un fasto del passato adesso l'ha perso, non conserviamo documentazione storica e quindi non possiamo neanche leggere il disegno pregresso. Quindi da questo a quell'altro, come vi dicevo c'è una gamma di sfumature infinita all'interno della catalogazione presente in questo momento. Niente, spero di avervi dato un quadro abbastanza completo adesso ripasso la parola a Fabio che diciamo si concentrerà più sulle azioni di valorizzazione che da qui in avanti a partire dal lavoro di conoscenza che approfondiremo si potranno poi fare. Grazie Fabio. Bene, diciamo che non abbiamo atteso la conclusione dell'attività di catalogazione per cominciare una prima azione di valorizzazione diciamo che le due cose possono andare in parallelo chiaramente ci si aspetta che una volta maturo il lavoro sulla conoscenza dei giardini storici questa attività di valorizzazione cresca sempre di più e coinvolga sempre di più il territorio comunque diciamo le prime azioni che abbiamo potuto fare sono state innanzitutto verificare incrociare la banca dati dei giardini storici così come l'avete vista con le banche dati delle altre emergenze che possono in qualche modo relazionarsi col giardino storico abbiamo immaginato anche dei finanziamenti che potessero facilitare azioni di valorizzazione abbiamo sui nove giardini storici di proprietà regionale in mente di prevedere in collaborazione col settore patrimonio delle azioni di conoscenza dei giardini e anche perché no delle azioni di valorizzazione di recupero di questa proprietà regionale e attività di conoscenza, organizzazione e promozione e la programmazione dell'offerta formativa dei giardinieri d'arti di cui avete già avuto una rappresentazione da parte del dottor Lamastra ecco, la prima azione che abbiamo fatto è stata appunto quella intanto di incrociare dicevo, i giardini storici del nostro catalogo con altri cataloghi in particolare abbiamo estratto quelli che sono i musei, le case degli illustri del nostro catalogo pater del patrimonio culturale regionale e abbiamo incrociato il dato con quello dei giardini in modo da verificare quali case museo e quali musei hanno un giardino storico inteso come appunto tutelato ai sensi del decreto ma a questo punto, visto che i dati li abbiamo aggiornati abbiamo aggiunto una serie di elementi anche quelli che hanno un giardino anche non tutelato ma che però è stato segnalato nelle altre banche dati o bibliografia che abbiamo rappresentato prima quindi questo consente intanto di avere diciamo consapevolezza del fatto che istituti culturali musei, case degli illustri che sono già un elemento di per sé del nostro patrimonio culturale avere appunto la consapevolezza che hanno un elemento in più un elemento aggiuntivo che può essere valorizzato in concomitanza col museo della casa museo o a sé insomma quindi questo può dare darà sicuramente luogo a progetti di valorizzazione dei due elementi in modo da mettere da costruire una rete e una diciamo e attività di conoscenza e promozione che consentano di di inglobare anche la realtà del giardino in quello che è il sistema di questi dei musei delle case degli illustri della regione e altro necessario imprescindibile confronto è stato quello con la banca dati degli alberi monumentali ecco questa banca dati è una banca dati estremamente matura presente all'interno diciamo del nostro catalogo patrimonio culturale che attualmente è in fase di revisione da parte del settore ambiente della regione e che appunto rappresenta sia gli alberi monumentali d'Italia questo è decisamente un dato fatto e finito concluso in capo al MIPAF in termini di titolarità e schedato fotografato e completo e da una serie di alberi regionali che invece derivano dalla dall'individuazione fatta dal lontano 1977 con la legge 2 che è stata una delle prime leggi anzi la prima legge di tutelare degli alberi monumentali a livello nazionale e che è in fase di revisione di aggiornamento e quindi diciamo probabilmente crescerà come numero e verrà finalizzato e completato e chiaramente come diceva anche Gianna prima gli alberi monumentali e giardini storici vanno quasi a braccetto direi ed è chiaro ce n'è uno lo vedremo nella reggia di Colorno che è proprio un albero monumentale d'Italia quindi è logico viene automatico diciamo immaginare dei progetti di valorizzazione e di tutela che rappresentino l'albero monumentale come uno degli elementi che possano portare alla conoscenza del giardino e alla come dire alla sua valorizzazione e poi ci sono appunto abbiamo detto dei finanziamenti regionali noi abbiamo immaginato un bando e lo abbiamo non solo immaginato ma l'abbiamo messo in pratica il quale lo abbiamo chiamato appunto passeggiate patrimoniali natura e cultura l'abbiamo diciamo rivolto ai comuni della regione che fossero o proprietari o gestori o gestori di giardini storici tutelati in questo caso quindi che avessero un provvedimento di tutela o che fossero individuati o ai sensi dell'articolo 10 136 ma anche articolo 142 del codice quindi che avessero in qualche modo una relazione con il codice e questo bando ha la finalità di valorizzare il giardino storico attraverso azioni che possono essere attività di ricerca approfondimento e divulgazione su quelli che sono i documenti che si possono trovare sul giardino e che quindi che possano essere in qualche modo messi a disposizione degli interessati della popolazione e condivisi ma anche eventi organizzazioni di eventi culturali che vedano nel giardino il luogo il palcoscenico nel quale essere rappresentati questo bando si chiuderà oggi quindi oggi è l'ultimo giorno per la presentazione delle candidature all'ora 17 scadrà il tempo massimo per poter presentare le domande e quindi a partire dalla settimana prossima cominceremo con la valutazione di questi progetti e la verifica effettivamente dell'interesse perché poi sono diciamo che questa è stata la prima volta che abbiamo fatto un bando di questo genere il tema del giardino storico come abbiamo detto è un tema nuovo quindi tutto quello che stiamo rappresentando oggi è anche un po' sperimentale stiamo sondando il terreno per capire effettivamente quanto questo tema abbia risposta in questo caso rispetto ai comuni ma anche rispetto a tutta la comunità della regione poi velocemente ma già Carlo ha rappresentato quelli che sono i giardini storici della regione quindi procedo velocemente qui è la loro distribuzione territoriale e poi c'è il tema dei giardinieri d'arte è già stato rappresentato dal dottor Lamastra noi qui raccontiamo quello che come regione abbiamo fatto la regione Emilia Romagna ha deciso spontaneamente di aderire a questa proposta di formazione dei giardinieri d'arte perché il ministero ha previsto questa formula cioè non ha in qualche modo obbligato l'intero territorio nazionale a istituire corsi di formazione per i giardinieri d'arte ha fatto una sorta di call informale chiedendo alle regioni interessate se appunto volessero entrare in questa in questa sfida perché è decisamente una sfida la regione Emilia Romagna ha raccolto ha raccolto l'invito e tramite una collaborazione tra il settore patrimonio culturale e il settore educazione formazione istruzione e lavoro ha cominciato a costruire l'offerta formativa e la costruzione dell'offerta formativa previsto innanzitutto prevede la firma di un accordo tra il ministero e la regione per quanto riguarda appunto i giardinieri d'arte è una firma che avverrà a breve perché l'accordo è già stato approvato dalla giunta regionale e di conseguenza siamo in attesa di una firma formale il quale accordo fondamentalmente regolerà i rapporti tra il ministero e la regione in termini anche di responsabilità e di azioni da fare in merito al raggiungimento degli obiettivi che sono per la regione 97 giardinieri d'arte in due anni per un valore totale di 601.400 euro di investimento e dalla parte invece della formazione è già stato individuata approvata la scheda di quelle che sono la rappresentazione della figura del giardiniere d'arte le funzioni e le attività sulla base della scheda ministeriale che era stata condivisa e è già pronto il bando che individuerà gli enti di formazione e che è già stato approvato siamo in attesa appunto della firma dell'accordo per dare il via che individuerà gli enti di formazione che si occuperanno appunto della realizzazione di questo obiettivo del PNRR che è un obiettivo come dicevamo prima decisamente importante diciamo e noi diciamo è un'azione quella che sarà compito dell'ente di formazione quella di trovare anche i luoghi dove realizzare i tirocini perché è una parte fondamentale quella dell'attività pratica per quanto riguarda la formazione noi grazie appunto ai rapporti che avevamo intessuto con l'associazione di more storiche italiane abbiamo già sondato un po' il terreno per capire la loro disponibilità ad accogliere diciamo gli studenti di questi corsi per poter fare pratica e questa disponibilità è stata è stata data diciamo c'è da parte diciamo dei privati quindi a questo punto stiamo parlando dei privati l'apertura a poter accogliere i luoghi di formazione diventare luogo di formazione quindi questo io lo ritengo importante e lo ritengo un ottimo segnale da parte anche del mondo dei privati e infine c'è quello di cui stiamo parlando oggi stesso cioè tutta l'azione di divulgazione che da quest'anno abbiamo deciso di di dedicare al tema del giardino storico quindi la giornata di oggi che è la giornata convennistica di apertura gli appuntamenti per i prossimi mesi che sono stati raccolti tramite una call for entry che abbiamo che abbiamo aperto a giugno che ha consentito di raccogliere più di cento eventi che sono stati messi a sistema in un programma che lo trovate distribuito anche qui nella biblioteca e poi anche un evento specifico su una realtà che è quella di Bosco Albergati che è una realtà molto particolare perché è a tutti gli effetti un bene culturale e paesaggistico della nostra regione è un interessantissimo esperimento lo chiamerei così dell'architetto Cesare Leonardi a livello territoriale ma che di fatto non ha nessuna rappresentazione riconoscimento a livello territoriale né come tutela i sensi del decreto né come area di particolare interesse paesaggistico ambientale i sensi del piano territoriale paesistico regionale quindi è una realtà che ha necessità dal nostro dal nostro punto di vista di essere riconosciuta e di entrare effettivamente nel nel novero dei beni culturali della regione Emilia Romagna quindi abbiamo fatto un approfondimento faremo un approfondimento domani e dopo domani proprio a Bosco Albergati per rappresentarne la realtà per rappresentare il fatto che nasce attorno a un nucleo storico che è quello del palazzo di Villa Albergati in quel caso della cui villa rimangono solo dei ruderi ma di cui c'è il giardino storico attorno e che rimane un nucleo importante attorno al quale si è sviluppato il parco di Leonardi quindi un ulteriore ci piacerebbe che questo diventasse un ulteriore tassello del grande catalogo che abbiamo cominciato a costruire per arricchire ancora di più l'offerta che potrà essere quella della regione Emilia Romagna abbiamo parlato di un'inaspettata provincia di Pesaro come provincia giardiniera ecco ci piacerebbe vista la grande mole di giardini 1167 potenziali certo ma comunque partiamo da 1167 record che la regione ha che anche la regione Emilia Romagna possa diventare una regione giardiniera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti